La componente tifo è stata fondamentale per riuscire ad arrivare dove siamo arrivati perché a me ha permesso di andare oltre quelle che erano le mie, secondo me, quelle che erano le mie possibilità e quindi in campo quando mi sembrava di non farcela più, io pensavo a tutta la gente che c'era intorno che cercava di aiutarci per ottenere risultati e quello mi permetteva di superare i miei limiti e anche per gli avversari, io entravo nel tunnel e noi eravamo, permettetemi di dirlo, tra virgolette, degli animali perché quando entravamo nel tunnel non è che eravamo proprio di quelli simpatici che facciano i soldi degli avversari ma poi loro veramente li vedevi con lo sguardo di chi aveva già perso nella partita perché entrava dentro in una realtà come quella della C1 ma poi dopo anche essere qui in uno stadio che alla fine si ha sempre sostenuti e quindi in mezza partita la vincevate voi l'altra mezza poi ci dovevamo pensare noi nel campo poi ripeto che rispondo eventualmente a domande o a curiosità grazie intanto grazie grazie grazie